Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati! Allora, questo annuncio molto importante, cominciamo subito. Martedì 29 agosto, che sarebbe martedì prossimo, alle 21 in punto, cioè alle 9 di sera, farò una live di Bloodborne. Che cos'è Bloodborne? Questo gioco qui, un gioco molto oscuro, molto bello, un simile di Dark Souls. Allora, farò la live alle 9 di sera, come ho già detto. Questo è un annuncio che avevo anche fatto sul clan di Clash Royale, ma dato che Clash Royale ormai non lo gioca più nessuno, non l'ha letto quasi nessuno. O almeno quasi nessuno l'ha preso seriamente. Ora, passiamo alla cosa più importante di tutte. Il gioco ha un doppiaggio in italiano, fatto anche bene, a differenza di Dark Souls che non ha nemmeno doppiaggio in italiano. Allora, il gioco lo facciamo. Gioco in italiano, doppiaggio in italiano. Gioco in inglese, doppiaggio in italiano. Gioco in inglese, doppiaggio in inglese? O gioco in italiano e doppiaggio in inglese? Decidete voi. Scrivetemi nei commenti quello che volete. Ok, questo è quello che troverete nella live di Bloodborne. L'annuncio è finito qui, ci vediamo alla live. Mi raccomando, vi aspetto in molti. Ciao! 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 ! Ciao! Grazie.